Nuova estate, nuovo viaggio nel tempo. A Fano è arrivato il momento, si fa per dire, di riaccendere le bighe. Da giovedì 14 a domenica 17 luglio è infatti in programma la nuova edizione di Fano un Fortuna e l'Affano dei Cesari, con una ricca carrellata di appuntamenti all'insegna della Romanità. Ma sì, ritorna in grande stile l'Affano dei Cesari, ovviamente in un momento delicato, perché negli ultimi due anni non si è potuta realizzare per motivi che conosciamo tutti, ma con grande sforzo degli organizzatori, ritorna alla grande una manifestazione che nel tempo ha segnato un grande momento della nostra città, un momento di richiamo alla nostra storia romana, alle radici della nostra città, con un evento che vede la partecipazione di oltre 250 rievocatori da tutta Italia. Un grande evento, quello dell'Affano dei Cesari, che ogni anno è in grado di cambiare, per una manciata di giorni, i connotati della città. La città cambierà volto in questi giorni, un grande allestimento della zona Pincio, con l'area dove poi si esibiranno fazioni, rievocatori, dove ci sarà la grande corsa delle bighe, l'area del Pincio che verrà completamente trasformata, ma anche in tutta la città, i giardini amiani, i giardini elopardi, prenderanno spazio a campamenti dei tanti rievocatori in arrivo e in quei giorni, da giovedì alla domenica, arrivando nella città, potrete scontrarvi con gladiatori, con momenti di vita militare dell'epoca romana, ma anche momenti di vita civile, grandi ricostruzioni, grandi didattiche, come nell'area San Michele, dove la colonia Unia Fanessi si appresterà in un qualche modo a fare una ricostruzione molto particolare ed interessante, tutta da vedere, come i giardini del Pincio, dove si, ma chi e le non, si appresta appunto a fare delle ricostruzioni, delle didattiche molto particolari. Sfilate, battaglie e feste sparse un po' ovunque. Grazie all'amministrazione comunale, alla Proloco di Fano e alle tante vivacissime associazioni, il programma sarà davvero ricco. Da giovedì 14 il momento dell'inaugurazione con un grande spettacolo del fuoco, venerdì 15 in pieno stile Fano città dei bambini e delle bambine, saranno i bambini a poter giocare con la Romanità nella sabbia posizionata proprio davanti l'arco d'Augusto, quindi all'interno dell'arena del Pincio, con anche la magica corsa delle bighette, dove le famiglie potranno divertirsi a giocare con la Romanità. Sabato 16 la serata sarà dedicata alle fazioni, questo grande momento di partecipazione popolare della vita cittadina alla Fano dei Cesari. Le fazioni dovranno rappresentare degli spettacoli artistici proprio nell'area del Pincio ed il tema dell'edizione 2022 che i popoli conquistati. Alla sera alle 21 la colonia di La Fanestris rappresenterà con un grande evento, con un grande momento di spettacolo, quello che è il tema appunto del 2022. E la domenica il momento di partecipazione più intenso, chiamato Pompamagna, un momento in cui le fazioni potranno sfilare nel magico area del Pincio, con tutte le tribune installate a contorno del percorso, dove tutti potranno partecipare, vedere e assistere a questo bel momento della città. Quindi la grande parata dei gruppi storici, come ho detto prima, provenienti da tutta Italia, con costumi fedelissimi all'epoca romana, la parata delle fazioni e poi la grande corsa delle bighe. Per fanesi e turisti una vera e propria chiamata alle armi, per quella che in realtà sarà come sempre una grande festa per tutti. Chi vuole potrà partecipare direttamente alla festa che avverrà il sabato sera, che si chiama Baccanaglia, festa delle fazioni, dove in via delle rimembranze, insomma ci saranno stand gastronomici, musiche, la possibilità di vivere al meglio la fanno dei Cesari. E ovviamente chi vuole potrà partecipare anche alla grande parata, preparandosi con dei vestiti a tema sull'edizione 2022, parlando con i responsabili di fazione e quindi assumendo un ruolo di quella che deve essere la parata delle fazioni, che ovviamente dovrà rispettare tematiche e motivi che le fazioni in un qualche modo decideranno. Per farlo potranno in un qualche modo contattare le varie fazioni e quindi rendersi completamente partecipi della manifestazione.